Il Fondo Leader Cell Diversified Strategies ha chiuso il 2013 con una performance al netto di tutte le commissioni pari all'1.94% e con una performance dal lancio che è avvenuto nel novembre 2012 pari al 2.54%. Il risultato del 2013 si colloca leggermente al di sotto rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, pari di rendimento pari a tre punti percentuali al di sopra del rendimento del cash che nel 2013 è stato prossimo allo zero, anche se va detto che queste aspettative di rendimento si esplicitano su un orizzonte di investimento pari ad un ciclo di mercato, quindi pari a minimo tre anni. Sottolineiamo anche che il risultato del 2013 è stato ottenuto con un livello di volatilità al di sotto di quello che è il nostro obiettivo dichiarato di volatilità, che si situa al 5% annualizzato, il Fondo nel 2013 ha avuto una volatilità pari a circa tre punti percentuali e mezzo, mostrandosi capace, grazie a questo contenimento della sua rischiosità, di mitigare le fasi di drawdown, soprattutto durante il secondo trimestre del 2013, in maniera migliore rispetto a molti competitors che applicano strategie di tipo sistematico, come noi, e anche a competitors basati su approcci più tradizionali e discrezionali. Il 2014 è poi iniziato con un mese di gennaio abbastanza turbolento, con la maggior parte dei mercati azionari sviluppati ed emergenti in ribasso, questo ribasso è stato principalmente dovuto ai timori legati al comportamento di alcuni paesi emergenti con la graduale fine dei programmi di quantitative easing negli Stati Uniti, quindi con la diminuzione della liquidità nei mercati finanziari che si può prevedere continuerà per tutto il 2014. In questa fase di elevata turbolenza il nostro fondo ha ceduto circa un punto percentuale durante il mese di gennaio, ma è stato in grado di affrontare una fase di difficile turbolenta sui mercati finanziari con un asset allocation molto prudente. Quindi il nostro posizionamento attuale è un posizionamento che ci vede con un 50% circa di esposizione alle obbligazioni governative di paesi privi di rischio di credito sovrano, quindi siamo esposti alle obbligazioni governative di Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Abbiamo poi circa un 15% di esposizione al credito corporate sulla parte americana ed europea, un'esposizione pari a circa il 30% sull'azionario di paesi esclusivamente sviluppati, in prevalenza azioni americane per un 20% circa di portafoglio, e abbiamo poi un'esposizione pari al 2% del fondo in oro, che è l'unica materia prima alla quale siamo attualmente esposti, e infine un'esposizione pari a circa due punti percentuali positiva alla volatilità. Questa esposizione fa parte della nostra strategia di protezione dal rischio di coda o dal rischio tail e ci ha permesso tra l'altro di conseguire un buon rendimento e quindi un buon guadagno durante la fase di esplosione di volatilità, di forte aumento di volatilità che si è registrata nelle ultime settimane. Quindi globalmente il posizionamento attuale del fondo, che è ben bilanciato e molto diversificato in termini di strategie, ci rende ottimisti rispetto a quelle che sono le prospettive di evoluzione futura del fondo nel 2014, in quanto riteniamo di essere ben protetti nel caso in cui la fase di turbolenza, che si è vista finora, continui, ma riteniamo anche di essere posizionati in modo tale da poter partecipare ad un rialzo dei mercati qualora questa fase di turbolenza passasse, quindi si ritornasse ad un regime di crescita sui mercati finanziari stessi. Sottolineiamo infine che il team di gestione, quindi le cinque persone che animano il lavoro di ricerca di questo fondo, hanno lavorato intensamente negli ultimi mesi alla messa a punto di alcune nuove strategie che saranno inserite gradualmente nel corso del 2014, pertanto invitiamo i nostri investitori a condividere il nostro ottimismo e cercheremo chiaramente di far bene nei mesi a venire.